Ciao, benvenuto o benvenuta nel video di oggi. Parliamo di confronto tra metodi di studio e in modo particolare voglio mettere a confronto un metodo di studio particolarmente semplice e uno un po' più complesso o comunque sicuramente più complesso ma anche più completo. Quindi oggi voglio proporti una vera e propria comparazione tra due metodi di studio sulla base di una diversa complessità. Complessità sia in termini di numero di fasi che costituiscono ciascun metodo per farti non solo capire come si può rendere più articolato un metodo di studio in generale e poi puoi vedere anche due alternative messe a confronto che puoi applicare in circostanze diverse. Quindi la presenza per esempio di più fasi e di più dettagli sia nel che cosa fare proprio come vari step ma soprattutto come farlo fa sì che metodi di studio più complessi siano più adeguati per circostanze che richiedono più dettaglio ovviamente ma anche una tipologia di informazioni più complessa da comprendere e quindi uno strumento più articolato ti permette di realizzare tale apprendimento in modo più rapido. Questo soprattutto per ottenere migliori risultati sia nell'immediato ma anche a lungo termine perché se prendi come utilizzare meglio un metodo di studio soprattutto se questo è più complesso ti permetterà di ottenere dei migliori risultati a lungo termine. Quindi vediamo il confronto tra due diversi metodi di studio. Ora, quale ho scelto? Il metodo più semplice che ho spiegato nel canale è il metodo request e adesso te ne parlerò brevemente ma ho fatto un video dedicato proprio su questo argomento se vuoi approfondirlo. Uno dei metodi più complessi che ho spiegato nel canale è il metodo murder che vediamo poi nello specifico più avanti. Allora, partiamo dal metodo request. Request è una cronimo che sta per RE, cioè READ, una fase di lettura che deve essere caratterizzata da una forma attenta di così analisi delle informazioni e in generale come queste informazioni sono organizzate per costituire gli argomenti, oggetto di studio. E l'altra parte del metodo, quest, sta per la seconda e ultima fase e quest sta per questions, quindi la formulazione di domande sui temi affrontati. Devi considerare questo metodo un po' come un ciclo continuo tra una lettura, attenta, e il porsi delle domande in merito appunto a queste letture e di conseguenza tornare nuovamente alla fase di lettura per poi porre nuove domande, cercare nuove risposte nella lettura, eccetera. Ora, vediamo il secondo metodo, quello più complesso, il metodo murder, che è, come già vedi, dal nome stesso diviso, prima di tutto, da un numero maggiore di fasi. E questo è il primo elemento in azzurro che vedi che è uno dei primi elementi che emerge, quindi due contro sei fasi. Ma vediamo nello specifico quali sono le fasi del metodo murder. M sta per mood, quindi l'emotività verso lo studio. Quando studi c'è un aspetto emotivo che il più delle volte viene semplificando, chiamando questa dimensione voglia di studiare, in realtà è più complesso di così, e si associa quindi al modo in cui ti poni anche, sì, da un punto di vista di voglia, ma non è solo quello. Poi aggiungiamo la U, stopper understand, quindi la lettura finalizzata dalla comprensione, che è un po' quello che avviene nella prima fase del metodo request. R sta per recall, quindi il ricordo senza guardare, è un po' quello che avviene nell'active recall che abbiamo visto tantissime volte nel canale. di sta per detect, quindi il controllo per errori. Devi andare a vedere quali sono i punti deboli, gli errori che hai commesso, magari le informazioni che sono un po' più complesse da memorizzare, da comprendere, da rielaborare. E sta per elaborate, quindi ovviare alla presenza di questi errori attraverso una memorizzazione focalizzata proprio sul ricordare, perché la comprensione dovrebbe essere già avvenuta nelle fasi precedenti. E l'ultima fase, review, in cui ripassi il tutto, una fase di revisione in cui tiri un po' le somme su quello che hai fatto fino a questo momento. Quindi come vedi, già dalla semplice spiegazione, il metodo è molto più articolato rispetto al primo. Non è un semplice discorso di dire quale è migliore, ma è un discorso più specifico di dire quale è più adatto alle circostanze. E per sceglierlo dobbiamo vedere dei criteri, di cui uno ti ho già parlato qualche istante fa, cioè il numero di fasi. Se hai bisogno di studiare rapidamente e non in modo particolarmente dettagliato, ovviamente due fasi sono molto più utili che sei fasi, come quindi nel primo e nel secondo caso. Il secondo criterio è la precisione di ciascuna fase. Quando nel metodo request, per esempio, ti dico porre delle domande, sì, poni delle domande, ma non hai dei valori di riferimento. Invece nel metodo murder, se sai esattamente quale errore hai fatto, puoi andare a vedere nello specifico come andare a risolvere questi errori. Quindi vi è anche precisione delle fasi nell'andare a cogliere aspetti più sottili dell'apprendimento. Ci sono più step preliminari nel caso del metodo murder. In questo caso lo step preliminare sta per la M, cioè per mood. L'emotività non è assolutamente considerata nel metodo request. Nel metodo murder, invece, sì. Il metodo più complesso stimola la memoria per come dovrebbe essere normalmente, invece il metodo request non è allo stesso modo, perché la memoria non devi mai considerarla come quella cosa a cui devi puntare, ma come un effetto collaterale di un normale e naturale processo di apprendimento. Tantissime delle cose che sai, se non quasi tutte, sono in memoria, possiamo dire immagazzinate, non per uno sforzo volontario solo di memorizzazione, ma perché hai cominciato un po' a ragionare, a masticare quegli argomenti. Ante cose che, soprattutto cose che non c'entrano con lo studio universitario, non utilizzi una memotecnica per qualunque cosa. E infine, le fasi con check. Check sta ovviamente in riferimento per una forma di controllo, di revisione, cosa che è prevista come ultima fase nel metodo più complesso al lato a destra e non è invece prevista nel metodo a sinistra. Quindi questi cinque criteri ci permettono di riconoscere delle differenze che possono essere da un lato sottili, in base ai tuoi obiettivi. Se hai una sola necessità di studiare un po', ma non di scendere nel dettaglio, non ha senso complicarti la vita, scegliendo il metodo murder che è più complesso, come abbiamo visto. Ma se invece hai bisogno di un metodo che ti guidi verso aspetti che sono così, talvolta più sfumati, ma che in realtà sono fondamentali, allora scegli il metodo più complesso che ti guiderà meglio, facendo di apprezzare anche dei piccoli passetti con delle fasi preliminari, anche delle fasi conclusive. Quindi questo è il confronto che volevo fare tra questi due metodi. Potremmo provarlo anche tra altri metodi, con altri criteri o vedere come quelli che abbiamo visto adesso possono applicarsi. Quindi quale utilizzare deve essere adeguato in base ai tuoi obiettivi. Se pretendi di più, ma sei anche disposto o disposta a spendere più tempo e investire più risorse, ovviamente il metodo murder è quello che fa al caso tuo. Se invece hai bisogno di risultati magari non ottimali, ma comunque accettabili, allora il metodo request potrebbe invece fare al caso tuo. Quindi anzitutto ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato e se sono sorti dei dubbi, delle curiosità, al solito fammi sapere nella sezione dei commenti, cercherò di aiutarti come meglio possibile. Per quello che riguarda il video di oggi è finito qui, ti invito ad iscriverti al canale se sei interessato, se non lo sai già pubblico un video ogni giorno e quindi con moltissimo piacere ti aspetto nel video che uscirà domani.